Eccoci e bentornati sul mio canale! Riprendiamo con Lego Jurassic World Allora dobbiamo fare il... Dobbiamo andare a sabotare l'accampamento Vieni qua! Oh quanti regà! Bello! Prova a cazzotti se fa! Vieni da me! Bello de casa! Ok! Andiamo là! Via! Effetto! Primo dinosauro salvato! No! Guarda com'è stato untito! Porello! I sedativi l'hanno proprio stordito ragazzi! Allora io un po' Se posso andare contro la cacchina qua! Che c'è? Ah ok! Ehi! Che sta succedendo laggiù? Oh cacchio qua! Qualcuno ha fatto uscire il Pachisaurus? Ragazzi so tanti! So tanti regà! Dai! Dai! Grande! Grande cacciatore di Bingen! Vieni qua! Vieni qua! A posto! Allora dobbiamo recuperare questi tre oggetti Per far riprendere Il piccolo dinosauro Anquietto! Allora andiamo un po' intanto Spacca tutto Qua cosa c'è? Oh! Che tramba! Non possiamo... Oh! Guardi ancora! Ehi qua! Dai eh! Oh! Quello che fa mozzo Quasi karate! Benissimo! Andiamo! Oh! Ce la fai ragazza? Oh! Mamma mia! Quando si spaccano I pupazzi Le cose sono troppo belli Ci fanno mille pezzi Voilà! Allora! Andiamo da qua Vediamo un po' Oh cacchio! E qua è un altro Cacchio! A momenti rimango fregato Dalla pizza della cacchina Ok! Andiamo a vedere la cacchina Piano! Piano! Che trovi? È trovato qualcosa Che schifo! Allora! Andiamola a portare Un gelato? Addirittura un gelato È trovato un cono gelato Nella cacca Ma pensate Ok! Gli manca la banana E penso Un funghetto Qualcosa del genere Quindi stiamo attenti ragazzi Dobbiamo girare Per bene qua Tutta la mappa Sarà pieno De roglie Sta missione Secondo me Guarda lì Il letto Cacchio! Cacchio! Aia! Ok! Mamma bella! Non so se romperà Sta qualcosa Qua sopra Che dite? Se va romper? No Non me la fa rompere Oh! Queste? Cacchio c'era Come fa questa? Che figata Rabbè potuto Oh! Oh! Daie! 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 Che dice qua La... Oh! Fa me scendere Che dice qua La guida? Serve un altro consiglio? Posso essere distritti dalla carica di un dinosauro Tieni premuto X per caricare un dinosauro Questo che è il dinosauro? Cacchio c'è sta fa fa Ah ok! Qua recuperiamo il funghetto Benissimo Qui va? Gira 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 tutto il mestolo Bene! Faccio il funghetto Ok! Resta solamente la banana ragazzi E così Il dinosauro è salvo E poi penso che ci servirà Per aprire Quel blocco stradale Ok! Resta solo la banana ragazzi eh Se sta riprende Molto bene Allora Giriamo bene tutto quanto Niente Ok! Monetine come se piovesse Andiamo di qua Allora Oh! Ah! Qua ci serve l'operaio Oh! Qua forse ci serve lui però Oh! Attenzione Vai! 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 Piano! Piano! Ok! Eccola qua! La bananina! Perfetto! Così almeno la andiamo Ad aprirlo con la carica Del dinosauro Quindi adesso finalmente Potremmo gestire Guidare E pilotare Un altro dinosauro Che bello ragazzi Eccoci qua Posto? Bello Sono tutti cattivi Ok! E adesso diventerai dei nostri Eccolo! Andiamo Che bello Guardalo come va Porco cane Mamma Oh! Proprio di cattiveria Vieni qua A posto Ma io vedi che cacchio fai Mamma bella Andiamo col dinosauro Anche almeno Diamo pure Per bo Di monetine Vieni qua Questa c'è Nesta un'altra Questa fa cazzotti Ok! Andiamo Vai 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 Andiamo così Spacca tutto Vai! Ok! Che botta! Andiamo un po' Deco Accampamento Lo sventriamo Lo sventriamo L'accampamento Ok Lo consigliamo Penso che dobbiamo passare ad un'altra aria Secondo me Che vedo là sopra Si può andare Raga Infatti ha fatto il po' Non so se potrà venire pure il dinosauro Vai in vista A posto C'è pensa lui Lo sventra lui Ma che Non dovrebbe esserci nessun altro sull'isola Catturiamoli Oh Altri Altri Le link da Catturare E qua A posto Mamma mia che aggressivo La ragazza Vai Aspetta Ci arrivi Aspetta Ok Perfetto Un altro salvato Oh Questo è grosso L'enormo saurus È scappato Dovresti proprio imparare i nomi L'enormo saurus Bello Vai 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 Spacca tutto Vai qua Questo era quello da che facciamo le foto Sbaglio Regà Qui che fa Oh Che tramba Ha liberato pure quest'altro Il piccoletto Lasciate che vi parli di alcune delle attrazioni che abbiamo al banco Per iniziare abbiamo uno zoo didattico che è un'opera di secolo sauris Ovviamente questi particolari dinosauri Abbiamo salvato anche l'altro Basta un po' Hai rotto l'anima Oh Vieni qua Allora qua sembrerebbe che ci serva una leva Anzi una chiave Meglio ancora Quindi alla ricerca della chiave ragazzi Adesso Alla ricerca della chiave I due dinosauri sono stati salvati più il terzo di prima Non ci posso fare niente Vediamo di qua Troviamo qualcosa Oh cacchio Quante volte Qua Non possiamo fare nulla Vediamo un po' Qua ci fa andare Sembra di sì però Aspetta voglio finire Ne fa tutto quanto Un'altra idea E usare i Frachiosaurus come scivoli Grazie al lungo collo Poiché sono arrivivoli Ci sono bassissime probabilità Che mangi noi visita Non dobbiamo perderne uno o due o di miliardi Questo rientra anche l'interno Un'attrazione particolarmente reddificia Sarà il lancio del panetto Che giocerà d'ossi Una variante del classico gioco da Luna Park Risa ancora più impegnativa Dalla presenza del bersaglio mobile Sono sicuro che farà salire gli incassi alle stelle Ok questo sta finito di fare lezione Che sta a fare un casino Finisco di controllare qua tutta la mappa Per andare a cercare la La chiave che ci servirà Per liberare gli altri dinosauri rimasti Ok Allora Qua mi sembra che non ci sia niente Ragazzi me lo sono girato tutto Quindi forse Che cacchio Mamma è fuoco Che dillo Allora forse Ah qua c'è La cacchina Attenzione Forse sta qua Stai mangiando il dinosauro la cacchina Cacchio Trovate la chiave Ma pensate Allora sono nave della cacchina là dentro Va bene Meglio così Apriamo Chiave Vai Vai Gira 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 la ruota Gira la chiave Gira la chiave Voilà Eccolo qua Sono uno o due Anzi due Sono fratellini Grandissimi Ne posso guidare uno alla volta Va Vai Vai Bum Uno E due Corsa Vesfondo Vesfondo Ok Sarò a tutta Vai Ok Che cacchio Delirio vero Raga Delirio vero Grandissimi Vediamo un po' adesso che ci andiamo a costruire Va Ok Uno Eccone un altro Trucche 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 Voilà E due Possiamo dire che sono in piedi e in corsa Ha una zampa fratturata Via Ma sei uscito di testa Hai la minima idea di cos'è quello Sei pazzo Dove vai papà? Mammina è molto arrabbiata Sarebbe un capitolo interessante del tuo libro Molto molto male ragazzi Abbiamo fatto arrabbiare Mamma T-Rex Tre doppi cheeseburger completi Ok E' una torta di mele Ragazzi Ci lasciamo qui Mamma mia A rischio morte Spero che il video sia stato di basso A gradimento Se vi è piaciuto Iscrivetevi sul mio canale Continuate il mio video E ci vediamo con tanti nuovi video Sempre qui Sempre Sul mio canale Ciao